Per settimane avevano preteso il contrario, adesso i dirigenti della TEPCO lo riconoscono nella centrale nucleare di Fukushima, sono stati ben tre i reattori interessati da una parziale fusione del nocciolo. Finora era stata ammessa la fusione delle barre di combustibile solo nel reattore numero 1, ciò è avvenuto invece anche nei reattori 2 e 3. Il 3 è entrato in fusione già due giorni dopo il sisma dell'11 marzo, seguito a poche ore dal numero 2. La situazione sarebbe meno critica rispetto a quella della Torre 1, dice il direttore generale della compagnia Junichi Matsumoto, perché in questi due reattori è stato possibile mantenere in attività il sistema di raffreddamento, seppure per un breve dasso di tempo. La missione coincide con l'arrivo in Giappone degli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica che faranno delle ispezioni in loco. Siamo qui per raccogliere informazioni e per cercare di imparare una lezione che potremo in seguito applicare in tutto il mondo per portare la sicurezza nucleare a livelli ancora più elevati. La TEPCO al centro delle critiche per la gestione opaca della crisi nucleare e molti ore in Giappone, non solo, si domandano quali altre informazioni essenziali la compagnia abbia nascosto all'opinione pubblica.